Sono state 1700 le presenze a Campo Imperatore nel Ponte della Liberazione, due impianti scistici aperti in Abruzzo, l'altro Mamma Rosa che pur ha registrato buoni numeri. E se parliamo di quelli del manto nevoso sono veramente da record, dai 60 centimetri ai 5 metri, con la media del metro e mezzo due delle piste da sci, che però devono tener conto non solo delle nevicate e cadute copiose, ma soprattutto delle temperature. C'è un rischio valanghe, chi va in montagna sa benissimo, soprattutto in questa stagione dove c'è tanta neve che è arrivata da poco, in quota soprattutto, quindi diciamo che intorno dai 2.300-2.400 metri di quota in su c'è un rischio valanghe importante. I pericoli della neve si conoscono, è sempre meglio non avventurarsi improvvisandosi esperti. L'apertura di una pista da sci è già una garanzia offerta da chi conosce la montagna. I consigli sono che in montagna bisogna andarci informati e formati, quindi informarsi col bollettino Meteomont, dove possiamo appurare e vedere qual è il rischio valanghe su tutto il territorio regionale. Formati perché la montagna comunque va affrontata al giusto modo, quindi con la giusta attrezzatura, con la giusta preparazione e con le giuste conoscenze. Ci sono stazioni come l'albergo di Campo Imperatore e Mamma Rosa dove si scia ancora, fatto eccezionale perché considerando che siamo a fine aprile e primi di maggio, però la discesa non è da confondere con lo sci alpinismo, la discesa normalmente si fa in posti sicuri e quindi possiamo andare tranquillamente tutti quanti a sciare. Il tempo è sempre importante perché è una bella giornata e è un discorso, andare a sciare in quota col tempo bruttissimo, con la bufera sicuramente non conviene e comunque gli impianti sarebbero chiusi e il viaggio sarebbe a vuoto. Ci sono stati degli incidenti di recente? Ultimamente no, per fortuna. Noi stiamo facendo una campagna tutto l'anno dove giochiamo sulla prevenzione, cerchiamo di far passare questo messaggio in tutti i modi perché in montagna purtroppo tante volte si rischia la vita, quindi è importante fare tanta prevenzione. E proprio Campo Imperatore vedrà l'arrivo del Giro d'Italia il 12 maggio prossimo. Sono all'opera le turbine per permettere il passaggio agevole dei ciclisti. Occhio dunque alle previsioni meteo, soprattutto a quelle delle ore pomeridiane. I semplici temporali primaverili dei paesi vicini al Gran Sasso della stessa L'Aquila sono per Campo Imperatore quasi sempre delle abbondanti nevicate.